Per corte si andatevene. Dottoressa, ma non vi intervistiamo? Bocche cucite e più di qualche insofferenza alle domande dei cronisti e alle telecamere. Si è concluso così dopo circa un'ora l'interrogatorio di garanzia di Davide Troilo, 32 anni, accusato di omicidio volontario per avere prima percosso e poi accoltellato l'ex fidanzata 26enne Jennifer Sterlecchini. Il ragazzo si trova ricoverato all'interno del reparto dedicato ai detenuti all'ultimo piano dell'ospedale di Pescara a causa delle ferite riportate nella colluttazione che ha condotto alla tragedia venerdì scorso nella villetta di via Acquatorbida nel quartiere Fontanelle di Pescara. Il giovane assistito dall'avvocato Davide Antonioli è stato interrogato dal GIP del Tribunale di Pescara Antonella Di Carlo alla presenza del sostituto procuratore titolare dell'indagine Silvia Santoro che, sempre in ospedale, venerdì sera aveva raccolto la prima deposizione di Troilo. Il ragazzo infatti ha raccontato di una lite per il possesso di un tablet e di un computer che si è trasformata prima in colluttazione e poi in tragedia quando è saltato fuori un coltello diventato arma del delitto. La ragazza venerdì, intorno a mezzogiorno, era tornata nella villetta a due piani nella quale aveva convissuto con l'ex compagno per chiudere definitivamente la relazione sentimentale e riprendere le proprie cose accompagnata dalla madre che è rimasta fuori dallo stabile e assistito impotente al delitto. Troilo, a caldo, ha raccontato che l'ex fidanzata l'avrebbe spinto e lui avrebbe fatto lo stesso. Poi Jennifer si sarebbe colpita alla gola con un coltello e lui, sempre con un coltello, si sarebbe ferito. Infine la tragedia con i due ragazzi che si sarebbero colpiti a vicenda. Fatale per la ragazza sarebbe stato proprio il fendente alla gola ma, dalle prime informazioni a seguito della ricognizione cadaverica del medico legale sarebbe evidente anche una frattura alla mandibola a segno delle percosse ricevute dall'ex compagno. Una ricostruzione però che non convince procure e carabinieri. La scena del crimine e la dinamica tende a confutare la tesi di Troilo intanto altri dettagli utili dalle indagini arriveranno dall'autopsia e il PM Santoro dovrebbe affidare l'incarico al medico legale Il Dopolidoro. In via Acquatorbida a breve tornerà la scientifica e il RIS di Roma infatti dovrà effettuare una serie di accertamenti con tecniche particolari finalizzati a completare il quadro investigativo.